Si era sollevato un altro polverone con l'Europa, ancora una volta divisa, e con l'Italia e Malta ai ferricorti. Così, nelle scorse ore, è stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa. Otto persone, tutte donne e bambini, sono state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari, mentre 176 persone sono state trasferite sul pattugliatore Protector inserito nel dispositivo Frontex e altre 266 sul Monte Sperone della Guardia di Finanza. Roma, intanto, punta il dito contro la Valletta per non essere intervenuta, mentre la barca era ancora nelle acque di cui è responsabile. Nell'escorsiore, sul caso, si era pronunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si è affidato ai social e dichiarando Malta si era fatta carico di intervenire, ma nessuno si è mosso o attaccato. In ogni caso, aveva detto Salvini, per il barcone i porti italiani sono chiusi. Sulla stessa linea, anche Danino Toninelli, ministro dei trasporti, che dice che Malta deve fare il suo dovere aprendo i porti. Immediata la replica della Farnesina all'ambasciata maltese a Roma. La responsabilità è loro perché il barcone è stato individuato nelle acque di competenza maltese per i salvataggi in mare, si sottolinea in un documento e quindi non solo Malta si deve occupare dei soccorsi, ma deve anche fare entrare la barca nel proprio porto.